Aspetta No ragazzi posso dir solo che sono un ingegnere Probabilmente Cioè vi faccio vedere Postazione da sparo I ragazzi adesso che spareranno Io vi dico che non vedo un cazzo Secondo me Secondo me ci ammazziamo Proviamo ragazzi Stai chiantando il video Arriva e ci faccio Perché Vincere Adesso colpisce il video Colpisce il telefono Ho trovato io anche lì No perché se ti fai Snupto 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 You know I'm over with the D.O.E